della questione dei precari RAI in qualche maniera, quindi di questa massa di fantasmi che circolano in un'azienda, non tutti politicizzati ma anche qualcuno che tiene in piedi il programma e non si capisce il perché e poi chiederò a Vinicio invece di fare il punto su quello che ha decchiesto il Signore, cioè di rendere la RAI il motore dello sviluppo dell'audiovisivo in Italia. Sì, grazie. Ma io questo tema Elena l'ho citato anche all'inizio dell'intervento perché è un tema che sento molto e poi devo dire su questo tema molto sta facendo il circo del PD RAI e con anche su questo fare in modo che questo tema emerga perché noi abbiamo questo è il tema degli invisibili che in Italia sono un'enormità e sono enormità anche gli invisibili che stanno in RAI. Quindi senza riconoscimento professionale, senza alcuna certezza, sottoposti a molte vessazioni si scaricano su di loro due cose. La questione di un mercato del lavoro nostro che non funziona intanto e che scarica, quindi su questo, espone questo segmento continuamente e molto spesso appunto stiamo parlando di tipologie professionali che non possono godere di diritti minimi come quello della malattia, della maternità e oltre a questo poi si scarica su di loro una politica aziendale che in questi anni è stata troppe volte umertosa, si è troppe volte girata dall'altra parte, ha fatto finta di nulla. Noi viviamo il paradosso drammatico di un'azienda in cui ci sono dirigenti apicali parcheggiati che hanno dei contratti faraonici e ci sono migliaia di persone che invece non vengono riconosciute, vengono licenziate, poi riprese e poi vivono questo circuito. Questa è una grande battaglia che deve fare il Partito Democratico. Noi in questi mesi, in questi anni l'abbiamo fatta, dobbiamo farla però con maggior determinazione e forse io penso sia il primo tema che abbiamo perché non è tra l'altro, Elena, un tema che si scinde dal tema dei contenuti. Le cose stanno insieme e siccome stanno insieme noi possiamo affrontare in maniera forte e coraggiosa il tema dei contenuti, chiamando nuovamente a un concorso di idee, a raccolta, le migliori energie di questo nostro paese, se quelle energie di questo nostro paese noi non le mortifichiamo. Noi le mettiamo in condizione di esprimersi per quello che hanno e non mortifichiamo invece progetti, talenti. È stato detto con grande forza e con grande semplicità dall'intervento di poco fa, così come è stato detto anche di un'impresa, e qui davvero chiudo ma voglio dare anche una risposta all'ultimo intervento, è stato detto anche di un'impresa, la nostra, di un'industria legata alla cultura che sempre più deve legarsi in un paese come il nostro anche all'industria della creatività manifatturiera. Deve essere un tutt'uno e non è concepibile ad esempio che il nostro paese continui, grazie a Dio naturalmente, ad eccellere, ad essere la seconda potenza industriale per la capacità di fare vestiti, di fare scarpe, di fare manufatti e non riesca invece più ad eccellere, anche ad esportare invece produzioni culturali come i nostri format televisivi, la nostra fiction o che riesca a farlo troppo poco. Per fare questo c'è bisogno che la politica aiuti gli investimenti, aiuti il privato ad entrare negli investimenti, mettendo anche una quota di pubblico, perché se non c'è l'investimento pubblico non ci può essere l'investimento privato e poi però abbia la forza di lasciare libera la creatività, l'autonomia e l'indipendenza che dicevamo, mettere nelle condizioni di fare e ritrarsi, non soffocare. Abbiamo vissuto l'odiosa stagione del fiction di colore politico in questo nostro paese, una vergogna, soldi sprecati, non deve più accadere una cosa del genere in un paese come il nostro che ha fatto della creatività una leva fondamentale non solo dello sviluppo economico ma anche di identità riconosciuta nel mondo. Dobbiamo tornare a fare questo mestiere che è quello che sappiamo fare meglio, tornando a fare in modo di trovare dentro di noi questa risposta. Grazie Francesco. Vinicio, ti lascio la possibilità di spaziare in tutti e due i temi della serata. No, dobbiamo essere telegrafici, anche perché prima ci è arrivato un segnale inequivocabile che alle nove dovevamo terminare, credo perché ci sia un altro dibattito, per cui dobbiamo farla in fretta, per cui io mi attengo alle disposizioni impartitemi e voglio aggiungere solo questo a quanto ha detto Francesco che mi trovo assolutamente d'accordo, per quanto riguarda questa anomalia dell'azienda Rai, per cui tu hai all'interno persone che sono pagate per non fare, perché sono persone che avevano avuto un incarico in un momento politico, poi è cambiato il momento politico, questa è una cosa che non esiste di per sé, non esiste nessuna azienda, non può esistere in Rai. Poi hai persone che svolgono le stesse mansioni previsti di solito con un contratto a tempo indeterminato, invece hanno i contratti che sono stati prima richiamati, anche questo non può esistere, per cui il percorso dell'avvertenza che è in corso con l'azienda che sta cercando piano piano di risanare deve essere seguita con determinazione, portata a termine, un passo dopo l'altro, questo è uno degli obiettivi che deve raggiungere l'azienda. Sulla sollecitazione io sono d'accordo, aggiungo soltanto, lo diceva già Francesco, che mi sembra che alcune scelte in questa direzione ci siano. Nella prima audizione alla Camera del Ministro Franceschini è stato il Ministro Franceschini a porre la questione del sostegno del finanziamento al segmento dell'audiovisivo, come l'ha descritta adesso Francesco, uno dei settori in cui questo nostro Paese in realtà, in termini di esportazione, in termini di produzione, in termini di creazione anche di un mercato e indietro rispetto agli altri paesi europei, può recuperare sapendo che qui dobbiamo fare anche noi uno scarto. Quando parliamo di finanziamenti, non possiamo pensare solo ai finanziamenti pubblici, deve essere ovvio una parte di finanziamento pubblico, ma ormai l'elemento essenziale è quello di riuscire a fare volano per investimenti privati, questo vale per le politiche industriali, questo è il Paese dove negli ultimi vent'anni le politiche industriali sono state dimenticate, spesso la discussione, io sono una commissione di attività produttiva anche, vengo da un territorio della provincia di Milano dove abbiamo sempre fatto andare le mani, avevamo le grandi aziende chimiche, le grandi aziende metalmeccaniche, automobilistiche che non ci sono più, quando sento parlare di politica industriale so che l'emergenza, so anche che non possiamo tornare agli anni 70, dove politica industriale è semplicemente investimento pubblico, no, politica industriale è l'atto regolamentatorio dello Stato, che è fondamentale, è individuare le priorità di intervento, è capitale di investimento pubblico ma soprattutto è volano con investimenti privati, questo è quello che dobbiamo fare, da questo punto di vista allora la seconda cosa che volevo citare, il decreto cultura che abbiamo approvato la scorsa settimana su iniziativa del Ministro Franceschini è quello che dice una cosa che può apparere semplice ma che finalmente si può fare, che i beni, quelli che tu per esempio hai citato, per la loro promozione si può fare, una collaborazione tra pubblico e privato. Oggi su Twitter c'è un selfie, questa è una delle cose che va tanto di moda adesso, del Ministro Franceschini, citatissimo questa sera, con l'investitore, quell'imprenditore che ha messo i soldi per un investimento importante della piramide Cestia qua a Roma, questo credo che sia l'ambito, quello della creazione di nuovi mercati e della capacità di fare sinergia tra pubblico e privato, mettendo in evidenza quel bene che indiscutibilmente abbiamo nel nostro paese che non c'è da altre parti, quindi credo che sia questo. Finisco con una battuta di questo tipo perché è stata citata la fiction, oggi ho visto sulle agenzie, è partito un dibattito perché il direttore generale Gubitosi stamattina ha detto che la RAI deve avere il compito di non promuovere delle fiction che parlano della criminalità organizzata quasi in maniera positiva, perché rischia di diventare il componente della banda della Magliana un esempio positivo, quindi il riferimento al romanzo criminale, il riferimento a Gomorra, il riferimento alla concorrenza. Non so se questo è il tipo di dibattito che si deve fare, io ho l'impressione che quel tipo di prodotto, Gomorra è stato venduto in tutto il mondo, in realtà è stato venduto perché racconta e aiuta a capire in giro per il mondo una realtà che altrimenti è difficile da comprendere, quindi forse più che inerpicarsi in dibattiti dove ti trovi la solita nicchia di servizio pubblico e la fai anche in termini retro, invece ti cimenti un po' di più sul terreno dell'innovazione, della lettura della società e del racconto della società per quella che è. Grazie. Ma grazie a voi. Allora, io ringrazio Francesco Verducci e Vinicio Peruf della Commissione di Vigilanza, devo dire un dibattito veramente molto denso, ma soprattutto io faccio in bocca al lupo al Partito Democratico perché riesca veramente a essere il volano di questa riforma della RAI e mi raccomando a voi che siete i primi attori in campo. Grazie a tutti e buonasera. Grazie.